benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione giulio berruti ex attore fidanzato di maria elena boschi ha cambiato lavoro dopo il cinema ecco cosa fa oggi giulio berruti è da tutti conosciuto per essere un attore italiano molto famoso e anche molto bello ma soprattutto per essere il fidanzato di maria elena boschi sapete che lavoro fa dopo aver scelto in cinema un cambiamento di rotta davvero incredibile ecco di cosa si occupa diondo occhi azzurri bello come il sole giulio berruti è uno degli attori più amati dagli italiani amato anche da maria elena boschi la sua fidanzata altrettanto famosa per essere una politica italiana capogruppo di italia viva e deputata fin dal 2019 insomma un binomio famoso che non poteva non attirare l'attenzione del gossip berruti infatti ha deciso di dedicarsi ad altro oltre il cinema ed ecco che lavoro fa giulio berruti il lavoro oltre il cinema di cosa si occupa l'attore fidanzato di maria elena boschi giulio berruti lo conosciamo tutti come attore ma anche un'altra passione che ha trasformato nel suo lavoro ovvero quella per la medicina estetica a quanto pare il dr g soprannome che gli hanno dato addirittura scarlett johansson e sienna miller durante le riprese di my mother's wedding si dedica con passione alla sua attività le sue creme sono così miracolose che donano alla compagna un effetto lifting è dunque un medico ma anche un imprenditore in quanto da poco ha lanciato la sua linea di schincare per pelli dolciate è specializzato in odontoiatria ma da sempre ha la passione erma medicina estetica e la cosmesi al settimanale chi berruti ha sottolineato che fa l'attore ma anche le competenze per praticare tecniche odontoiatriche ed estetiche in realtà infatti non ha mai lasciato il cinema ma vuole fare entrambe le cose ed è per questo che non lascia il suo lavoro nel mondo del cinema a breve infatti potremmo vederlo sia sul grande schermo con my mother's wedding che sul piccolo schermo con gabriel sinferno una passione che però porta avanti anche nel mondo dell'estetica ecco le sue parole a corredo delle foto che mostrano la lezione di medicina estetica sabato ho tenuto la mia prima masterclass sul rino filler è stata una bellissima giornata fatta di confronto e di condivisione è stato per me un onore poter mettere a servizio la mia esperienza per tanti bravi colleghi medici ed odontoiatri appassionati di medicina estetica il cuore oltre l'ostacolo sempre ciao 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 ciao